del G20 della cultura che si è aperto a Roma in una splendida cornice al Colosseo con tutti questi ministri dei paesi più industrializzati del mondo due giorni di eventi, ne parliamo con Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino in collegamento da Roma, ma prima sentiamo brevemente che cosa ha detto il Premier Draghi all'inaugurazione di ieri. Quando il mondo ci guarda vede prima di tutto arte, musica, letteratura, segni della storia antica. Voglio ringraziare chi lavora nei nostri teatri, nelle nostre biblioteche, nei nostri musei perché la riscoperta del passato è condizione necessaria per la creazione del futuro. Cristian Greco, qual è l'obiettivo di questo G20 della cultura? L'obiettivo è quello di creare un minimo denominatore comune, di capire che la cultura, che la nostra memoria collettiva è la base sulla quale tutti ci possiamo confrontare. Dobbiamo preservare il passato, come diceva ieri il Premier Draghi, non solo per una questione di tutela, ma perché proprio quel passato costituisce le radici sul quale possiamo costruire il futuro. Ormai siamo consapevoli che i luoghi della cultura sono dei teatri dove le identità locali e globali si incontrano e tutti assieme proprio valorizzando il patrimonio che abbiamo possiamo costruire una società più armonica. Il titolo di questo G20 è la cultura unisce il mondo, ma direttore qual è il ruolo della cultura in questo post pandemia? Può essere un ruolo prioritario, importante senz'altro? Io l'ho definito ieri la colonna spinale del nostro paese, ce lo ricorda la Costituzione all'articolo 9, lo ritroviamo nell'articolo 3,2. La cultura non è accessoria, l'abbiamo notato in questi mesi in cui eravamo separati dai luoghi della cultura, i musei, i teatri, le sale concerto, le biblioteche, gli archivi sono parte essenziale della nostra vita. Molto spesso io le definisco come l'enciclopedia materiale del passato, sono i frammenti di memoria che le generazioni precedenti ci hanno lasciato. Senza memoria un uomo non riesce a camminare nel presente e orientare il futuro, l'umanità non riesce ad andare avanti senza questo patrimonio che ha alle sue spalle. Quindi da qui dobbiamo ripartire, dobbiamo ripartire con educazione, innovazione e ricerca e come diceva ieri Mario Draghi, questo può essere anche un motore fondamentale di sviluppo economico e sociale del paese. Professore Greco, la cultura in questa fase di post pandemia passa anche attraverso la transizione digitale e quelle che sono le nuove tecnologie? Assolutamente e userei anche io il termine transizione digitale non più rivoluzione perché ci siamo all'interno. Ci dobbiamo interrogare quale sia il ruolo dei luoghi della cultura nel ventunesimo secolo. Se due secoli or sono, si sono fatti i grandi scavi, si sono create le grandi collezioni, oggi cosa facciamo noi per le generazioni future? Beh oggi possiamo riflettere su chi siamo, possiamo mettere assieme i pezzi del puzzle, possiamo inserire gli oggetti all'interno di un paesaggio e le nuove tecnologie ci aiutano per ricostruire il passato. Come sarebbe bello un domani andare nei musei e ritrovare il paesaggio, non vedere solo gli oggetti all'interno delle vetrine ma comprenderli nell'ambiente in cui essi sono stati trovati e vedere come l'ambiente pian piano si modifica con l'agire dell'uomo. Poi mettere assieme pezzi che sono in musei diversi per ricreare corpora che una volta erano unitari. Le nuove tecnologie sono fondamentali in quelle che noi chiamiamo le digital humanities che vanno un ruolo sempre più importante per capire, comprendere, studiare e comunicare al mondo i nostri beni culturali. Grazie, grazie dottor Greco. Quindi il museo si cambia, si amplia, interagisce con il pubblico e diventa un luogo aperto.